È un piano che complessivamente prevede un investimento di 43 milioni e mezzo di euro sul nostro territorio, investiti su quelli che sono da sempre stati i quattro obiettivi fondamentali, quattro linee di finanziamento, direttrici di sviluppo fondamentali del nostro territorio che riguardano gli interventi sulle infrastrutture e un'attenzione particolare alla mobilità ciclopedonale, interventi sull'edilizia scolastica, mitigazione del rischio idrogeologico e rigenerazione urbana. Si sviluppano su queste quattro direttrici gli interventi del Piano Triennale delle Opere Pubbliche a San Giovanni Valdarno, adottato in giunte ed approvato nel corso del Consiglio Comunale del 23 gennaio. Questa direzione va una rinnovata attenzione alle manutenzioni con il rifinanziamento dello strumento dell'accordo quadro, un intervento sicuramente molto importante di risistemazione dell'anello viario tra i due punti all'interno del quale si colloca anche la realizzazione del nuovo parco urbano dell'Arno previsto dal progetto di rigenerazione urbana tra natura e cultura e la realizzazione della passerella ciclopedonale che finalmente creerà un collegamento ciclopedonale in sicurezza tra le due sponde dell'Arno. Gli interventi sull'edilizia scolastica con la realizzazione del nuovo plesso 06 presso la Rosae Caiani e il nido del Ponte alle Forche, sicuramente due interventi importanti in due quartieri diametralmente opposti all'interno della nostra città però ugualmente importanti che incrementeranno la modernità e la dotazione di strutture scolastiche sia del Bani che del Ponte alle Forche. Dall'altro lato concludo con un accenno al progetto che sicuramente sarà molto importante nel corso dei prossimi anni per la rigenerazione e la riqualificazione del nostro territorio tra natura e cultura, un progetto sinergico di ampio respiro che è il risultato assegnatario di un finanziamento importante da parte della Regione Toscana 9 milioni e 400 mila euro che saranno spesi per la riqualificazione dei due assi viari principali della nostra città da un lato il centro storico con i suoi chiassi e Palazzo Corboli che sarà il nuovo palazzo della memoria della nostra città e dall'altro lato la riqualificazione dell'asse del Parco dell'Arno quindi l'altra direttrice fondamentale e naturale del nostro territorio che ci attraversa e ci caratterizza fortemente.